Inaugurato questa mattina il nuovo centro Stella Maris all'interno del porto mercantile sarà il punto di riferimento per molti marittimi di ogni nazionalità che lontani da casa potranno ottenere sostegno spirituale fraterno ricreativo all'interno di una struttura completamente rinnovata e risanata. Un'iniziativa resa possibile dall'impegno del comandante della Capitaneria di Porto della Spezia, dall'autorità portuale, dal Comitato Nazionale per il Welfare dei Marittimi presieduta dall'ammiraglio Pettorino, la cerimonia di inaugurazione, dicevamo, questa mattina alla presenza delle autorità civili e militari e del nostro Vescovo, a fare gli onori di casa fra Gianluigi Ameglio, cui è affidata la cura della parrocchia. Un giorno nel quale la diocesi e la città si stringono intorno a questa realtà così importante che è il porto mercantile della Spezia e uno dei tratti che contraddistingue chi vive nei porti, sulle navi, è la solitudine. Questo luogo vuole essere proprio uno spazio per raggiungere queste persone, per creare con i volontari e i fedeli della parrocchia della Stella Maris uno spazio di fraternità, uno spazio di incontro e, se ci fosse bisogno, anche uno spazio di aiuto finanziario e morale. Determinante l'impegno del comandante della Capitaneria di Porto della Spezia, Capitano di Vascello, Massimo Seno. Questa iniziativa si inquadra negli adempimenti che noi abbiamo posto in essere in relazione alla Maritime Labor Convention del 2006, che è stata ratificata in Italia nel 2013 ed è entrata in vigore nel 2014. Si tratta di realizzare dei luoghi in cui possa essere consentito ai marittimi stranieri di trovare un momento di ricreazione o trovare assistenza. In qualche maniera è una cerniera tra i bisogni dei marittimi e i servizi che il territorio può offrire. La benedizione della struttura impartita dal nostro Vescovo Diocesano, Monsignor Luigi Ernesto Palletti, che così ha salutato l'evento. Ti direi veramente importante, importante per poter accogliere, anche per far sentire proprio a casa coloro che operano in modo particolare nel mare, come marittimi, come personale di servizio. È un momento molto bello, un momento bello di collaborazione, penso che sia anche un momento significativo per tutta la città. Oggi quest'opera è stata possibile grazie a una collaborazione di diversi enti, il coordinamento nazionale del welfare marittimo, l'autorità portuale, la capitaneria di Porto. Anche a questi credo che un ringraziamento sia doveroso. Decisamente. È molto bello il fatto che ci sia questa collaborazione perché segna non solo questa possibilità di camminare insieme, ma anche questa attenzione comune che penso sia veramente a cuore a tutti.